La Cina si apre al mondo e lo fa affidando il ruolo di ambasciatori agli imprenditori che vivono fuori dai confini del continente. 500 di loro si sono dati appuntamento a Campione d'Italia per la nona edizione del forum degli imprenditori italo-cinesi. Siamo molto onorati di ospitare il forum, il nono forum degli imprenditori cinesi, anche perché prima di arrivare a Campione sono stati in tutto il mondo. Campione d'Italia, un'esclava italiana circondata completamente dalla Svizzera, anche delle normative interessanti se si vuole far partire il commercio a Campione. Dal 2013 le imprese cinesi hanno dato vita in Europa a un giro d'affari di 6 miliardi di euro. La sfida per i top manager è di creare una rete di rapporti per poter consolidare la crescita e rafforzare le difese contro i rischi derivanti dalla crisi e dalle speculazioni. A livello economico in Cina noi diciamo che per il mondo è ancora in crescita abbastanza bene, nel senso sì. Anche con questo evento noi proprio per acquisire le persone di imprenditori cinesi e europei, magari facciamo un po' di scambio proprio in futuro come andamento di lavoro, mercato. Da tempo Campione d'Italia punta sulla Cina per incrementare l'attrattività degli investimenti, una strategia condivisa con gli operatori economici del territorio che ha visto anche la realizzazione di un reality show sul mondo della moda che in Cina ha incollato allo schermo 40 milioni di telespettatori. Il mondo cinese è un mondo interessante sotto profilo economico per qualsiasi tipo di attività e devo dire Campione d'Italia negli ultimi anni ha cercato di creare una particolare vicinanza a questo mondo realizzando questo Loren Fashion Show che è diventato veramente un riferimento per il mondo italiano, economico ma anche cinese dove sostanzialmente noi andiamo ad eleggere la modella dell'anno per quanto riguarda il mondo cinese.